Ciao, sono Sam di Fuoristrada, con questo video voglio rispondere a una domanda Ho appena comprato la moto, oppure sto comprando la moto e devo valutare l'abbigliamento Cos'hai da propormi a prezzi bassi? Ed ecco che ci arriva in aiuto a Cervis Con un giubbino turistico, materiale ultraleggero, ovvero omologato AA ma 450D Traforato, sia per quanto riguarda la zona petto, sia per quanto riguarda la zona braccia internamente Sia per quanto riguarda la zona schiena Questo giubbino proposto dalla Cervis, di listino 109,95€, viene appunto scontato sia sul nostro sito che in negozio del 15% Troviamo le protezioni livello 1 che formate sia sui gomiti che sulle spalle Collette neoprene, quindi pensato appositamente per evitare irritazioni del collo Il giubbino è anche predisposto per un paraschiena sia livello 1 che livello 2 È regolabile sui fianchi, sui polsi, sulle braccia e alle classiche tasche esterne Sinistra e destra Più la tasca interna, sia portadocumenti che portatelefono Ovviamente, qualsiasi tipo di intemperi, che sia vento, più freddo o acqua, passeranno Ecco perché la Cervis ci dà la possibilità di aggiungere quello che è il suo interno sia anti-vento che anti-acqua Da poter attaccare al giubbino tramite delle apposite cernite Con la donna partiamo dall'XS e arriviamo fino allo 2XL Con l'uomo invece partiamo dalla S e arriviamo fino allo 2XL Abbiamo il classico nero Abbiamo il grigio e giallo fluo Abbiamo il grigio con i particolari Cuxia E abbiamo il nuovissimo blu, grigio e giallo fluo Il blu è colore BMW Il meglio al miglior prezzo